Piozzo Leonardo, il mago del dressage, personaggio a livello ormai mondiale, planetario, lanciato qui da un circolo di Roma, quale? Il circo olippico equestria. Bene, hai sentito il Cavaliere Orlandi? Sì. Ecco, che impressioni ti ha fatto? Mi sembrano ottime idee, un ottimo programma, quello che la nostra federazione serve in realtà, perché è mancato in tutti questi anni. Un ragazzo così giovane, dimmi che idea ti sei fatto della federazione e di cosa c'è bisogno, per te, per i tuoi coetanei e soprattutto per crescere in questo sport. Per crescere in questo sport serve più supporto da parte della nostra federazione a noi atleti fondamentalmente. Ci sentiamo, diciamo, tra virgolette un po'... Abbandonati? Sì, diciamo, il termine rende più l'idea. Sì, il termine rende l'idea, ma noi è una battaglia che stiamo facendo da qualche mese, abbandonati anche in termini economici, monetari? In termini... Sportivi, tecnici? In termini sia sportivi, tecnici, ma anche, soprattutto, economici, monetari. Quindi, avete bisogno di soldi. Secondo te, che sei un ragazzo giovane, come si possono trovare i soldi? E quale idee può mettere in campo il Buon Vittorio per dare spinta a questa, diciamo, mancanza di pecunia? Sì, fondamentalmente alla nostra federazione mancano sponsor. Dobbiamo innanzitutto trovare sponsor, ai quali poi la federazione presenterà gli atleti e con degli sponsor possiamo affrontare dei programmi internazionali più impegnativi. Grazie, Piotr, c'hai le idee molto chiare e ti ringrazio tanto. Quindi, sostieni Orlandi? Sì. Con fatica, però l'ha detto e questo ci fa piacere a lei. Sostengo chi vuole fare per il nostro sport. Grazie. Intanto ti facciamo in bocca al lupo per tutte le tue attività e ti ringraziamo per l'intervista. Grazie.